Buonasera e benvenuti a questa edizione di Take 5 Jazz e dintorni, un po' particolare perché molto dintorni e perché soprattutto stiamo per intervistare una bravissima cantautrice di cui ho il piacere di essere la pianista e stiamo per esibirci questa sera, quindi sarà un'intervista chiacchierata. Abbiamo con noi Grazia Negro, buonasera Grazia. Buonasera Aisha Ruggeri, pianista della band di Grazia Negro, è bellissima questa dimensione nuova, è una sorpresa, brava. Grazia è una cantautrice salentina che scrive e compone da moltissimo tempo e adesso abbiamo la fortuna di poter suonare e ascoltare il suo disco di cui adesso lei ci parlerà e ci dirà anche un po' chi è il suo braccio destro, chi sono i promotori, da dove viene, chi è Grazia. Allora Grazia, parliamo di questo Ragazze Forti di cui ti hanno già chiesto mille volte il titolo, parliamo un po' di te. Certo. Ragazze Forti, sì, mille volte il titolo perché è un titolo che è venuto il giorno del mio compleanno, il 25 aprile, ci tengo anche a sottolineare il 25 aprile. Con questa bellissima torta, con 40 enorme, era la torta proprio a forma di 40, capito? C'era proprio un 40 e ho detto ho 40 anni, ho 40 anni e quindi forse devo far uscire questo disco, queste canzoni che avevo nel cassetto da più di 20 anni. Sono andata via da Lecce, che avevo 19 anni, sono arrivata a Bologna con la mia trombetta, presa solo perché ho visto un film di Chet Baker, Let's Get Lost, il video documentario, mi sono innamorata della tromba, di questa musica, sentendo Miles Davis. Premetto che giocavo a pallavolo e facevo ragioneria, quindi completamente un mondo a parte. E quindi questa esperienza mi ha portato fino a Bologna, fare il Dams, a trovare questa città, una città ricca, piena di fermenti, ricca di incontri, di esperienze, di musicisti. Era veramente un bel periodo quello, gli anni 90, è stato veramente bello. E Bologna sono stata 10 anni e lì ho fatto le esperienze più incredibili, il teatro, l'arte di strada, ho suonato appunto per strada con gli artisti di strada. Sono anche stata, ho avuto l'esperienza anche con tante famiglie rom, con cui abbiamo fatto uno spettacolo teatrale, oltre ad ascoltare nelle varie cantine, nei vari ritrovi, tantissima musica jazz, d'avanguardia, sperimentale. L'Ernest Reisinger che veniva all'Osteria dell'Orsa lì sotto, con 40 persone che ci faceva veramente sentire in un altro mondo, ci faceva sentire ad Amsterdam, lontani dal mondo. Quindi tutte queste esperienze, a un certo punto, che ho conosciuto quando poi ho conosciuto Roy Paci, l'ho conosciuto anche perché ero in banda ionica, ero stata presa da lui in banda ionica, una fantastica esperienza, 40 elementi, una banda con quattro cantanti, ospiti, dove si suonavano le marce funebri della Sicilia, miste alla musica, alle canzoni bellissime di Vinicio Caposela, Mauro Ermano Giovanardi, anche lì ho conosciuto lì Mauro Ermano Giovanardi, è stata la prima volta. E finalmente poi sono riuscita a portarlo come ospite anche in un brano del mio disco. Quindi tutte queste persone, questo disco in pratica è una sintesi di tutte queste esperienze. E gli ospiti che ho chiamato sono proprio le persone che ho incontrato lungo questo tragitto. E appunto, a parte Roy Paci, oltre a Roy Paci, naturalmente, che ti dicevo, quando poi ho conosciuto lui in banda ionica, a parte che poi ho avuto anche l'esperienza dalla maternità, siamo con lui appunto, abbiamo due bellissimi bambini, e poi sono ritornata in Salento. E questo ritornare in Salento mi ha portato a ritrovare le mie radici salentine, mescolandole poi con tutto ciò che c'era, che mi portavo da Bologna, da tutte le esperienze vissute in quella città, con tutte le persone che ho incontrato. Quindi c'era bisogno di sintetizzare tutto questo. E niente, doveva uscire. Le Ragazze Forti sono 12 brani, in cui ogni brano è praticamente una parte di me. In ogni brano è infatti una miscela di stili, una miscela di musiche. Non è un caso, perché appunto ogni brano ha una sua connotazione, fa uscire ed esprime una parte anche di me. E di quello che mi piace, della musica che mi piace. C'è tanta musica che mi piace, non sono fossilizzata. Perché dal jazz di Chet Baker che mi ha fatto scoprire, o Miles Davis che mi ha fatto scoprire la tromba, c'è l'arte di strada, quindi la musica rom, la musica popolare, delle tradizioni balcaniche. C'è un miscuglio incredibile che poi penso che sia anche una caratteristica dei nostri tempi ormai. C'è una contaminazione tale nei popoli e nelle culture, ma anche nella vita pratica che non si può fare altrimenti. E io penso che la cosa per ogni artista, ma non solo per ogni artista, anche per ogni persona, sia proprio questo, la capacità, il massimo dell'esperienza che un artista può vivere è proprio questo. riuscire ad assimilare quante più esperienze possibili, no? Quante più culture, quanti... e anche osservare, stare ad osservare e poi esprimere con la propria arte. Questo disco è effettivamente un disco veramente pieno di influenze. Si sente assolutamente la derivazione musicale dei musicisti di cui lei appunto ha parlato poc'anzi. Ed è un disco dove possiamo sentire pop, possiamo sentire rock, possiamo sentire le sue tradizioni salentine, possiamo sentire jazz, possiamo sentire... vieni, vieni! Possiamo sentire tutto. E questo disco ve lo mostro. E appunto questa è la copertina. Stavo giusto parlando adesso di tutto quello che c'è in questo disco. E ne parlo anche con cognizione di causa perché, cioè, lo suono questo repertorio. E' noto anche, ecco, vi faccio vedere la copertina, ed è anche prodotto da appunto Etna Gigante. Che è, ecco qua, ci vuoi dire anche qualcosa di Etna Gigante? Appunto, Etna Gigante è una struttura appunto fondata da Roi, da Roi Paci, che ormai penso abbia già anche 15 anni di vita questa struttura. è nata in Sicilia, poi ha vagato in tutta Italia e cerca di raccogliere, come fa Roi, il suo spirito è a 360 gradi, la sua grande energia e la voglia di raccogliere tutte le musiche del mondo. Quindi non è un caso che Etna Gigante possa produrre un disco come il mio, cantautorato, contaminato, quello che si vuole dire, e come può produrre anche in questo gruppo i Seed, See You Downtown, a Kased, che appunto è il primo di febbraio, farà la sua prima uscita anche live, dove stiamo parlando di un progetto, dell'elettronica, di un rock molto contaminato anche quello. Quindi dal cantautorato all'elettronica, al corleone che sta per uscire ora anche di Roi Paci, questo è il suo progetto Alvanguard Jets Hardcore sicuramente, quindi un misto di musiche, oltre a fare anche Roi Paci e Retusca, che è tutta un'altra roba, quindi diciamo che c'è di tutto e c'è proprio voglia di fare tutta la musica bella. E di musica bella ce n'è veramente tantissima, allora tu adesso stai per anche fare musicultura, musicultura che è un concorso molto importante in Italia, dove sono passati tutti praticamente, abbiamo anche i nostrani Bottega Baltasar, quindi stiamo parlando di gruppi veramente con un forte sound, e quindi già il fatto che Grazia con i suoi brani partecipi a questo concorso, già questo ci dice quanto al di là della produzione dell'Etna Giganti di Roi Paci, lei viene apprezzata assolutamente anche all'esterno di quella che è la sua realtà di nascita, che è appunto quella salentina. Allora Grazia, tu, appunto per la varietà di quello che tu proponi con il tuo repertorio, e soprattutto anche live, perché live esce ancora di più la tua arte. A chi ti rivolgi come pubblico? Perché veramente è un pubblico molto variegato quello che si appassionerà delle tue canzoni, perché vai dai testi, se vogliamo, un po' più leggeri a cose molto impegnative, come rimesso enigmatico, come caschi indifferenti, che oltretutto ha anche una storia a questo pezzo. Quindi qual è secondo te il tuo pubblico, se si può dire che c'è un tuo pubblico? Sì, innanzitutto spero che il pubblico ci sia, spero di ritrovare il mio pubblico e di portare la mia musica e di portare la nostra musica, perché c'è anche lei, di andare veramente in tutta Italia, ma anche oltre Italia, oltre i confini, e portarla questa musica, farla live, perché questo è importante, oltre al fatto di riuscire anche a promuoverla, a farla ascoltare. Il mio pubblico, guarda, sicuramente è rock and roll, il pubblico è rock and roll, ti ricordi che c'erano alla presentazione, c'erano tutti i bambini, c'erano anche i miei figli, che si appassionano e che conoscono tutti, pizzica poera, manetta, in macchina, vanno tranquillamente, ma ci sono anche le persone anziane, anche loro, ma ci sono tante donne anche, tantissime, tante ragazze forti che si ritrovano tantissimo in quello che ascoltano, anche nei testi. E le ragazze forti, l'abbiamo spiegato che cosa significa, si è capito, vero? Si, si è capito. Ma non lo diciamo, 40 non erano i miei anni però, c'era mia sorella. No, poi abbiamo anche dei ragazzotti forti, nella band. Ma sì, vedo lì che si fa su e giù, Andrea Garavelli al basso, Alessandria, sì, poi abbiamo preso tutta l'Italia in pratica, Andrea Garavelli al basso, Marco Parano alla batteria, che naturalmente vive a Milano, però è un siciliano doc, non si può dire. E poi c'è il new entry questa sera, c'è Gianni Gotta, sempre Alessandria, chitarre, suonano le chitarre. E' anche un po' Veneto. Eh, un po' Veneto. E' anche un po' Veneto. Non lo sapevo, vedete. Sì, c'è la madre che è della rivina del Brenta. Mi diceva ieri che è di Camponogara, quindi ha toccato anche un po' di Veneto. Con me sono Veneta, un po' Puglia, quindi riusciamo ad avere quel sangue un po' bastardo che serve, no? Ah, vero, c'è anche Aisha Ruggeri, che è la pianista. E la facciamo anche cantare in questo progetto. Ho detto, tu devi cantare. Comunque sì, li ho trovati, tutti in una dimensione, cioè, è l'energia che deve andare, no? Che deve vibrare. Quando li ho sentiti, anche con lei solo telefonicamente, c'è sempre Roi Paci, che però fa lì, tesse tutti i fili della matassa, no? E mi ha dato il suo numero, io t'ho chiamato e t'ho sentito, ho detto, sì, tu sei una ragazza forti, poi sei dalla nostra band. Quindi... Allora, grazie. Allora, c'è qualcos'altro che ci vuoi raccontare? O posso... Allora, vabbè, sicuramente non mancheranno le situazioni. Questa intanto è una delle nostre pillole di Take Five, jazz ed intorni. Io vorrei aggiungere una cosa, perché ho avuto modo di frequentare tanto, negli ultimi mesi, grazia, e la famiglia, come si usa a dire, come diciamo, quando scherziamo, però si scherza fino a un certo punto, perché stiamo parlando di persone che sono attive 25 ore al giorno, che si prendono cura della loro musica, dei loro affari, dei loro affetti, dei loro amici, veramente senza sosta. E quindi, spesso c'è un atteggiamento leggermente denigratorio, e spocchioso, verso coloro che riescono a fare delle belle cose, occupandosene anche dal punto di vista imprenditoriale, in un certo senso, perché spesso si pensa che questo vada a deficere sulla qualità artistica. Beh, posso dire assolutamente che non è così, perché abbiamo artisti che... Stiamo parlando di artisti, parlavamo prima anche di Day Seed, parlavamo di Roy, e Roy ha anche questo nuovo progetto, I Corleone, che vorrei appunto menzionare, perché sono appena venuti fuori col disco distribuito da Igea, e appunto Grazia, quella quale stasera io rock, io stasera parteggio per Grazia, alla grande, e quindi insomma, ascoltateli questi artisti, perché stiamo parlando di un Sud che è veramente, veramente in gran fermento. Quindi Etna Gigante, gli artisti indipendenti dell'Etna Gigante, grazie, grazie di essere stata con noi, e grazie di continuare ad essere con noi per le prossime due ore. Grazie a te, grazie a Angela, che è lì raffreddata, però adesso comincia a scatenarsi, grazie a tutti, veramente, grazie Aisha, grazie. Bene, questa era Take 5, Jazz ed intorni, per Radio Sherwood, la nostra operatrice fedelissima, Angela Boscaro, io vi ringrazio, e mi raccomando, www.grazianegro.it No, www.grazianegro.net .net, .net, scusate. Ok, ne sentiremo parlare, e domani a Faenza, e poi a Musi Cultura, quindi check out. Ciao, buonanotte.